In Abruzzo e Molise il problema osteoporosi interessa circa 200.000 donne over 60 anni e come evidenzia anche il claim della terza edizione della campagna Il piatto forte, se non trattata questa malattia rende le ossa fragili come porcellana. Dopo la prima tappa abruzzese ad Avezzano, oggi e domani 25 e 26 giugno dalle ore 10 alle 17, in Piazza della Rinascita a Pescara, un team di specialisti è a disposizione dei cittadini per informarli su rischi che corrono coloro che sottovalutano la patologia ed effettuare gratuitamente controlli. La campagna di screening è promossa dalla Fondazione Italiana per la ricerca sulle malattie dell'osso con Amgen, Ecolite, Senior Italia, con il patrocinio delle regioni Abruzzo e Molise. Il 27 giugno il camper farà tappa in Largo Gian Battista Vico a Chieti, il 28 in Piazza Vittorio Veneto a Termoli e il 29 giugno in Piazza Martiri della Libertà a Teramo. Ascoltiamo il professor Marco Gabini, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Reumatologia dell'Ospedale di Pescara, consigliere nazionale della Società Italiana di Reumatologia e docente della Scuola di Specializzazione di Reumatologia dell'Università dell'Aquila e la dottoressa Carmelina Santilli, dirigente responsabile dell'Unità Operativa Dipartimentale di Ginecologia Sociale Centro Menopausa dell'Ospedale Civile di Pescara. Le nuove terapie sono riuscite a dare una svolta importante nella riduzione della possibilità di frattura che è circa il 70% per le fratture vertebrali e circa il 40% per quelle della testa del femore che credo siano dei valori assolutamente di primo livello da recepire con molta importanza e con una speranza di miglioramento globale di tutta la popolazione. Quello che conta molto è la compliance, cioè il paziente deve poi rispettare la prescrizione e i livelli di intervento e di controllo delle terapie che vengono messe loro a disposizione. Il nostro obiettivo è la prevenzione a 360 gradi, lo dicevamo, quindi tutti i medici, tutti dovrebbero cominciare a studiare e a fare prevenzione. Il nostro obiettivo è che questi 5 milioni di pazienti affetti da osteoporosi in Italia, di cui una grossa parte sono le donne, diminuissero. Vorremmo zerarlo, lo so che non è possibile, però noi ci proviamo. Queste giornate sono delle giornate che indicano quanto la prevenzione possa portare un buon risultato a casa.